Buonasera Altigilis. Per Nuoro oggi è il giorno del dolore, è difficile per una comunità accettare la morte di due loro membri di soli 13 e 15 anni per un gioco e quelli che si fanno da adolescenti senza che si dia peso alle eventuali conseguenze, a meno a quelle più estreme. Hanno perso la vita così Itan Romano e Patrick Zola, i ragazzi nuoresi rimasti intrappolati sotto le macerie di quel rudere di via Pasquale del Sanai in cui erano entrati forse per lo spirito di esplorazione che anima i ragazzi della loro età. Un casolare diroccato da decenni senza segnaletica visibile che indichi potenziali pericoli e da tanti anni metta di visite dei giovanissimi del vicinato. Dalle autorità corse ieri sera sul posto, oltre al prefetto Giancarlo Dionisi, il questore Alfonso Polverino, il sindaco Andrea Suddu e il sostituto procuratore della Repubblica Riccardo Belfiori che dovrà ora indagare sulle responsabilità del crollo. La tragedia che ieri a Nuoro ha spezzato la vita di Patrick Zola e Itan Romano, gettando la disperazione alle loro famiglie, è avvenuta poco prima delle venti. I due ragazzi sono deceduti per il crollo del tetto di un rudere situato in un terreno posizionato a poche decine di metri dalla chiesa di San Domenico Savio. I giovanissimi si trovavano all'interno dell'edificio che per causa di incorso di accertamento è collassato, travolgendoli e determinandone istantaneamente la morte. A dare l'allarme un amico delle due vittime è scampato al crollo. La macchina di soccorsi è partita immediatamente. Dal vicino comando provinciale dei vigili del fuoco sono giunti uomini e mezzi per tentare di salvare la vita ai due ragazzi. Dopo un'ora di lavoro purtroppo i pompieri hanno recuperato i due corpi senza vita. Sul posto hanno operato anche i sanitari del 118, la polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale. Sarà l'inchiesta dalla Procura della Repubblica di Nuora ad accertare le cause del crollo dell'edificio. Il corpo senza vita di Concetta Reale, la pensionata 83enne originaria di Castrovillari in provincia di Cosenza, residente a Zerfariu, scomparsa il 26 marzo scorso dal paese, è stato trovato stamattina all'interno di un canale a Zediani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri vigili del fuoco di Ulistano che hanno proceduto al recupero della salma e alla sua identificazione. Per intracciare la donna, la prefettura di Ulistano aveva attivato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse. Qui avevano attivamente partecipato a forze dell'ordine, vigili del fuoco, corpo forestale regionale, protezione civile e compagnie barraccellari. Dopo la breve pausa per il fine settimana di Pasqua inizia ora la volata decisiva per l'assegnazione delle 12 deleghe assessoriali prima del debutto in aula martedì prossimo della 17esima legislatura regionale. Tutti i partiti della coalizione di centro-sinistra hanno espresso i propri desideri e consegnato la lista dei possibili candidati alla Presidente Alessandra Todde che stamattina ha lasciato la residenza di Famiglia Nuoro per intraprendere il lungo e difficile percorso che l'attende nei prossimi 5 anni. Primo step deve decidere chi tra Maurizio Melis, già primario di Neurologia dell'ospedale Brozu di Cagliari, Antonio Davide Barretta, docente universitario Maddalenino, Giovanni Maria Soro, direttore generale dell'Università di Sassi di Giuseppe Maria Secchi, già direttore generale dell'Assessorato della Sanità, sarà nominato per la delega che sovraintende alla salute dei Sardi. Il secondo step riguarda la scelta del commissario straordinario che andrà a sostituire il sindaco di Cagliari di Paolo Truzzo. Grazie a tutti. In Sardegna insieme alla sanità i trasporti aeree marittimi verso la penisola rappresentano uno dei problemi maggiormente sentiti dai cittadini. A rendere ancora più difficile la situazione è lo stato di viabilità interna che non risponde alle necessità dei residenti e dei vacanzieri. Su questo fronte la Filti Cigelle prosegue nel suo impegno per garantire a tutti i sardi non solo una migliore mobilità, così come sottolinea il segretario regionale Arnaldo Boedu, secondo il quale sulla questione della continuità territoriale e aerea il vero problema è rappresentato dalle tariffe. Nelle prossime ore la presidente Alessandra Todde presenterà la nuova giunta regionale. Al sindacato arriva una richiesta di attenzione alle problematiche di mobilità dei sardi, un male antico che è arrivato il momento di curare con efficacia ed efficienza. Tutto è pronto per la terza edizione di Foreste Aperte nel Parco di Tepilora, organizzata grazie ai finanziamenti della Regione e della Fondazione Sardegna. L'appuntamento primaverile che aprirà le porte dei territori dei paesi dell'area protetta e i tanti visitatori attesi nelle quattro tappe in programma a partire dal 7 aprile a Torpe per proseguire il 21 a Lodè, il 25 a Posada e il 28 a Bitti. Al centro dell'attività, aperte tutte le fasce di età e soprattutto alle famiglie, ci saranno le escursioni nei boschi e nelle zone umide del rio Posada. Si attraverseranno sentieri curati dal personale dell'Agenzia Forestas dove si verranno accompagnati da guide ambientali e dai volontari del CAI. Queste giornate saranno l'occasione per scoprire antiche tradizioni grazie a una serie di laboratori formativi ed esperienziali che spazieranno dall'agroalimentare locale alla musica e balli tipici di queste comunità. Grazie a tutti. Grazie per averci seguito e arrivederci.